Dopo il ritrovamento del piccolo Mattia a Passoripe di Trecastelli, in un campo a 150 metri dal fiume Nevola, è salito a 12 il tragico bilancio delle vittime. Sono proseguite in mattinata anche le ricerche dell'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre scorso, Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara. Venerdì verso le 15 e 30 era stata la collaboratrice di un asilo di campagna a notare il corpo del piccolo Mattia nel fango, mentre si recava al lavoro in via Santissima Trinità, vicino al civico 44. La donna aveva avvertito il proprietario del terreno, Alessandro Bedetta, che a sua volta aveva chiamato i carabinieri facendo confluire i soccorritori sul posto. Ora dovranno essere svolti gli accertamenti ufficiali per l'identificazione di Mattia, che al momento del ritrovamento avrebbe indossato una maglietta gialla e verde. I vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri e guardia di finanza continuano a battere le zone dei fiumi, con sub, squadre di terra, droni, cani e il sorvolo di elicotteri. Ma non è facile. Basta dire che Mattia è stato rinvenuto a circa 15 chilometri a valle dal punto in cui l'auto su cui viaggiava con la madre Silvia, che invece si è salvata, era stata travolta dal nevola. E a 13 chilometri da dove i due erano usciti dal finestrino, mentre l'abitacolo si riempiva d'acqua a Castelleone di Suasa. Il corpo di Mattia, il bimbo di otto anni, è stato ritrovato a tre castelli ed è stato ora trasportato all'ospedale di Senigallia. Sarà sottoposto ad ispezione cadaverica, al termine della quale si deciderà se sarà necessario effettuare l'autopsia. La piccola salma non è stata ancora identificata ufficialmente ed è possibile che sia reso necessario l'esame del DNA. Contestualmente al recupero del corpo di Mattia, nell'ottavo giorno di ricerche, i soccorritori hanno ripescato dal nevola anche l'auto BMW di Simone, il figlio di Brunella. La macchina era già stata individuata nei giorni scorsi in località Corinaldo. Simone, con la madre e la sorella Noemi, 17 anni, con due vetture, stavano tentando di scappare dalla zona di Barbara per l'allerta esondazione quando sono stati travolti dalla piena. Il ragazzo si era salvato aggrappandosi a una pianta. Il corpo di Noemi era stato trovato senza vita il giorno dopo, mentre la madre Brunella è ancora dispersa. I funerali della 17enne si svolgeranno probabilmente all'inizio della prossima settimana, ma si attende l'evoluzione delle ricerche che sono ancora in corso per sua madre.